Nicola Melucci, Presidente dell'Associazione Stella Maris, l'inaugurazione della Casa dell'Arte delle Donne, un momento di aggregazione sociale, un momento di conforto nei confronti delle donne in difficoltà, un'occasione per dare quell'aiuto che le istituzioni dovrebbero dare e che spesso non danno. Sì, questo laboratorio in pratica che Gianna Cavallo ha voluto fortemente è proprio perché si avvertiva la necessità di un'accoglienza, di un'assistenza alle donne in difficoltà, non solo di oggetto di violenza sulle donne. E quindi questa realizzazione, proprio perché la carenza istituzionale, specialmente in queste zone particolari, siamo ben felici di aprire questo centro, perché proprio da le notizie assunte alla Regione, il Comune di Taranto è l'unico capoluogo della provincia in Puglia che non ha mai fatto domanda per ottenere il finanziamento per aprire un CAV. Sono dieci anni che l'amministrazione non è riuscita a fare nemmeno la commissione delle pari opportunità, quindi ci troviamo con una città allo sbando per questi problemi sociali e noi con questo centro vogliamo dare il nostro piccolo contributo da privati.